Grande assente per scelta al salone di Francoforte, allora ne parliamo noi in studio qui oggi a Safe Drive, mi riferisco a Volvo, protagonista del nostro primo faccia a faccia di oggi. Infatti oggi in studio parliamo di Volvo, tratteremo naturalmente molti argomenti a partire dalla V60 Cross Country che abbiamo in studio appunto. Lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile delle pubbliche relazioni di Volvo Italia, grazie Roberto di essere venuto. Grazie a voi per avermi invitato. Il concetto Cross Country che applicate a diversi modelli della vostra gamma, in cosa consiste esattamente? Cross Country è una grande, fra virgolette, invenzione di Volvo che ha praticamente reso off-roader, quindi con attitudini fuoristradistiche, delle station wagon. Da qui nasce Cross Country. V60 è quindi l'ultima incarnazione di questo concetto, che era cominciato con le vetture più grandi e che oggi è veramente un marchio di fabbrica di Volvo, quasi un marchio dentro al marchio. Faccio un esempio che forse anticipa qualcosa che magari mi chiederai più avanti, ma V60 Cross Country, appena arrivata sul mercato, abbiamo fatto il porta aperte di recente, ha di fatto determinato oltre il 50% degli ordini della Carline 60 su quella tipologia. Quindi la Cross Country ha assolutamente orientato il favore del pubblico e ha dato un boost straordinario, un incentivo straordinario all'interesse per questo modello, che insomma è già qualche anno che abbiamo su strada. Roberto, entrando un pochino nel dettaglio, che cosa cambia dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista dei contenuti rispetto alla V60, chiamiamola tradizionale? Diciamo, essendo un po' due macchine in una, nel senso che sia una elegante vettura da strada, ma anche una buona fuoristradista, e la prima cosa che si percepisce è naturalmente una certa maggior muscolosità dovuta al fatto che è 65 mm più alta da terra rispetto alla cugina stradale, ma c'è molto di più di 65 mm di altezza da terra, perché in realtà è un pianale che è completamente diverso, perché questa vettura nasce sul pianale della cugina più grande, cioè dell'XC70, per cui è questa particolarità tecnica che la rende così straordinariamente efficace nell'off-road. Poi ci sono naturalmente una serie di dettagli estetici, ci sono anche quelli, tipo i paracolpi anteriore e posteriore, i battità collaterali, i cerchi da 18-19 specifici, più qualche altro dettaglio estetico che riguarda gli specchietti, il retrovisore, eccetera, ma chiaramente la cosa principale è l'altezza da terra. Tornando ai contenuti, è possibile avere in due versioni diverse, parlo della trazione, trazione integrale con il torque vector. Sì, assolutamente, c'è sia nelle motorizzazioni principali, che sono il T5 benzina e il D4 turbodiesel, a seconda del tipo di soluzione di potenza che vengono rese disponibili, c'è sia la trazione anteriore che la trazione integrale, proprio perché questa è una macchina che è un due in uno, insomma, vuol dire, deve saper fare diverse cose, per cui magari chi non ha particolari esigenze di affrontare grandi tratti in fuoristrada può essere contento anche della trazione anteriore. Ora, tralasciare un pochino l'aspetto legato alla sicurezza, parlai velocemente di questa nuova vostra app, l'on call, vedo che sorrisi, a me piace molto, ti spiego perché voglio parlarne anche brevemente, perché al giorno d'oggi l'automobile è sempre più integrata con il nostro smartphone, e noi viviamo sempre, ci vediamo anche nei luoghi pubblici, tutti con questo telefonino, adesso si può dialogare con la propria vettura anche a distanza, in che cosa consiste brevemente? Ma essenzialmente, hai detto già tu, cioè, essenzialmente è un dialogo che si installa attraverso il proprio apparato mobile e la vettura, alla quale si possono chiedere delle cose, tipo, quanto carburante hai ancora a bordo, oppure mi raffreschi già l'abitacolo che sto arrivando, oppure mi preriscaldi l'abitacolo che sto arrivando, tutta una serie di funzioni che vengono gestite a distanza, appunto, dalla centralina del long call e che servono praticamente a, come dire, a rendere più accogliente l'auto, più funzionale l'auto nel momento in cui il cliente sale a bordo, avendo già risolto alcuni aspetti della guida dei quali magari uno si occupa quando è già a bordo. Ma la cosa interessante di questo sistema, in realtà, è che nasce come applicazione di sicurezza to cure. On call era quel dispositivo che permetteva all'auto di essere in contatto con una centrale operativa e in caso di incidente nel quale chi è a bordo non fosse in grado di chiamare i soccorsi o reagire, metteva appunto in collegamento l'auto con il mondo esterno, che era in grado quindi di portare soccorso dove c'era bisogno. Io volevo parlare del futuro Volvo passando attraverso la nuova XC90, che è la vostra, di fatto, attualmente la vostra ammiraglia, la vostra grossa ammiraglia, che ha tanti contenuti nuovi, dopo il successo che ha avuto, adesso si ripresenta una veste completamente nuova, una nuova scommessa, e apre poi la strada dei modelli e delle serie, insomma, che saranno veramente interessanti. Devo dire che c'era tanta attesa per questa vettura, ne abbiamo preparato l'arrivo per un po', ma quando è arrivata, vi abbiamo tenuto sulle spine, ma ne valse la pena, la macchina si sta comportando benissimo e a livello globale e a livello italiano, globalmente ha già raccolto quasi 70.000 ordini in tre mesi di vita, quattro mesi di vita, ma anche prima di essere praticamente poi disponibile presso le concessionarie, quindi è un modello che segna l'inizio di una nuova era per Volvo e lo ha fatto veramente, quindi ci sta portando in una dimensione di lusso, di raffinatezza di lusso, che prima non conoscevamo. E vedremo che, insomma, in quella direttrice arriveranno poi altri prodotti di grande pregio, tutti basati sulla stessa tecnologia che ha dato i taxi 90. Bene, io direi che con questo può essere davvero tutto per il momento, grazie Roberto di essere venuto nei nostri studi. Grazie a voi ancora. Poi noi naturalmente torneremo a parlare di Volvo e delle grandi novità che metterà sul mercato. Io vi lascio ad Elisa e naturalmente ai prossimi servizi di Safe Drive. Ciao a tutti.